Buon appetito! suavecito e suavecito por qui questo nos prepariamo per il nostro balsamo il primo balsamo il secondo io qui l'alli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 passi io qui l'alli passi 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 e 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 passi 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 la diagonale grande 2 3 4 ultimo 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 12 12 13 14 14 15 15